Mr. Masi, grande prestazione dei Canarini, peccato per il risultato? No, non direi, il risultato, come dicevo l'altra volta, conta fino a un certo punto, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi che poi è la cosa che a me interessa di più. Calcolando che in campo si vedevano ragazzi di 14-15 anni, si è visto un buon calcio oggi, quindi ci sono anche buone prospettive per il futuro? Sì, io credo che oggi entrambe le squadre hanno dimostrato il loro valore, siamo due ottime squadre e credo che in un prossimo futuro qualcuno di questo ragazzo possa servire alla prima squadra.